Una biglietteria che quindi si affianca a quello che è un servizio che ovviamente già da anni era svolto su quella delle editrici automatiche ed è una biglietteria che presta un servizio a 360 gradi aperta a 7 giorni e 6-7 con orari molto lunghi arrivando fino alle 21 della sera. Quindi un'idea di assistenza anche di persona per i nostri cittadini e quindi per gli utenti di Trenorda.